Ciao e benvenuti a tutti sul canale Serie TV Spoiler. Siete pronti per scoprire cosa accadrà nelle prossime puntate di Terra Mara? Questo video riguarda le anticipazioni di Terra Mara che vanno dal 13 al 17 febbraio. Ma non perdiamo altro tempo e vediamo subito che cosa accadrà in queste puntate. Ma prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità. Sarà una settimana ricca di colpi di scena, quindi preparatevi. Ma dove siamo rimasti? La puntata di sabato si è conclusa con la faccia stupita di Demir dopo aver sentito la proposta del Maz di cedergli le quote del terreno ma al triplo del prezzo. Vedremo una scena strappalacrime, il Maz si trova in paese per ritirare le partecipazioni del matrimonio ma mentre sta per svoltare nella via si scontra con Zuleia e tutte le partecipazioni voleranno per Terra. C'è imbarazzo tra i due ma ha anche tanta tristezza ed amarezza nei loro occhi. Sarà infatti una scena da brividi. Zuleia vedendo le partecipazioni si congratulerà con il Maz e gli dirà che è felice per lui ma in realtà sta morendo dentro. La scena si sposta su Sermin che entrando in banca chiede all'impiegato di poter prelevare dei soldi ma c'è una brutta notizia. Il conto di Sermin è stato bloccato dall'erario in realtà su ordine di Demir quindi il conto di Sermin è stato congelato e lei spazientita uscirà dalla banca in cerca di risposte. Mentre Zuleia è con un car al club di Adana si sente male e viene portata d'urgenza in ospedale. In ospedale verrà visitata da Sabatin che deciderà su consiglio di Mushgan di fare degli esami approfonditi. Nel frattempo anche Demir preoccupatissimo si recherà in ospedale abbandonando l'ufficio. Vedremo Sermin irrompere nell'ufficio di Demir ma non trovandolo deciderà di raggiungerlo in ospedale per chiarire la faccenda del conto bloccato. Sermin entrerà urlando nella stanza dove è ricoverata Zuleia e si scaglierà contro Demir minacciando la famiglia Yaman di fargliela pagare amaramente. Sabatin fermerà Sermin e la porterà fuori dalla stanza dicendole che non è proprio il luogo adatto per discutere di certe questioni. Ma finalmente arrivano gli esiti degli esami. Mushgan saprà in anteprima una notizia sconvolgente. Zuleia è incinta. Daranno la notizia alla famiglia Yaman ma i componenti sembrano turbati dalla notizia perché sappiamo bene che Demir è sterile quindi il bambino che è in grembo Zuleia non può essere suo. Passerà di lì anche il Mats sconvolto apprenderà anche lui la notizia e uscirà di corso dall'ospedale per metabolizzare la notizia. La tensione è alta e durante il tragitto di ritorno a casa i tre parleranno a malapena e arrivati nella tenuta Demir nella camera padronale accuserà Zuleia di tradirlo con il Mats e arriverà addirittura a minacciarla con una pistola. Le rivelazioni di Demir sulla sua sterilità e il sospetto che Adnan sia figlio di il Mats provocherà una lite furibonda tra i due culminando ognuno sparo che risuonerà in tutta la villa. Tutti i domestici allarmati dallo sparo si raduneranno nella tenuta e Unkar preoccupatissima entrerà nella stanza padronale e troverà Demir a terra sconvolto con in mano la pistola e in lacrime mentre Zuleia è a pezzi sul letto. Dopo aver preso la pistola dalle mani di Demir Zuleia si lamenta che le accuse di Demir l'hanno calugnata. Demir chiede il motivo per cui Zuleia l'ha sposato si amava il Mats ma lei spiega che lo ha fatto per salvare la vita del Mats in quanto Unkar le aveva detto che il Mats sarebbe stato giustiziato se non l'avesse fatto. Nel frattempo Fekeli incontra il Mats e gli chiede perché sembri così preoccupato. Il Mats gli risponderà che Zuleia è incinta e che la famiglia Yaman sta crescendo sempre di più. Fekeli ricorda che l'odio non porta a nulla e gli suggerisce di proteggere se stesso e soprattutto la sua futura moglie Mushgan. Nel frattempo Ghaffur tenta di riconciliarsi con Sanye ma lei arrabbiata gli lancerà un vaso di fiori in testa rifiutando ogni tentativo di riavvicinamento. Più tardi Demir e il Mats si recheranno separatamente però in un luogo appartato per sfogare la loro frustrazione. vedremo un Demir distrutto sparare in aria e il Mats urlare a squarciagola. Infine Unkar si recherà da Zuleia nella camera padronale e le rivelerà che è sicura che il bambino che aspetta sia di Demir. Unkar non può fare a meno di chiedere a Zuleia cosa avrebbe fatto se non avesse sposato Demir e la rassicura che presto Demir si scuserà con lei per il suo comportamento inappropriato. Vedremo Demir parlare con la madre e le dirà che era consapevole del fatto che Zuleia non lo amava e ora non può assolutamente accettare che l'abbia sposato solo per salvare il Mats. Unkar si sente in colpa per quello che è accaduto e dirà al figlio di incolpare solo e solamente lei ma aggiunge anche che sia certa che il bambino sia suo e non di il Mats ma Demir insiste che non può essere perché è sterile ma Unkar suggerirà al figlio di ripetere i test perché potrebbe essere che l'esito non sia propriamente veritiero. Demir entrerà nella camera padronale e ricomincerà la lite con Zuleia continuando a sostenere la tesi che il bambino che sta aspettando non sia suo. Zuleia è sconvolta e dirà che spera che Demir la uccida perché non ce la fa più a vivere in questo modo. Nel frattempo Sermin si incontra con un avvocato per discutere della sua situazione finanziaria. Successivamente andrà da Unkar per fare le congratulazioni a Zuleia ma oltre alle congratulazioni verrà attaccata da Sermin con l'accusa di aver bloccato il suo conto. Unkar la caccerà di casa e minaccerà anche Gaffur di licenziarlo se Sermin dovesse ancora entrare in casa sua. Vedremo anche Gengaver entrare nel club di Adana dove c'è Demir da solo che sta bevendo un caffè e gli riferisce indirettamente che il mazzo si sposerà presto e che farà una grande festa. Nel frattempo Zuleia naturalmente è molto arrabbiata per le accuse di Demir anche se Unkar cerca di tranquillizzarla. La giovane decide di trasferirsi nella camera della babysitter e dice ad Adnan che ora che sono soli e lei dovrà vivere solo per lui. Nel frattempo Mushgan parla con l'amica Fijen e le confida che i suoi genitori non andranno al suo matrimonio perché non approvano la sua relazione con il mazzo. Gengaver e il mazzo discutono di un'idea cioè quella di aprire un'azienda in Germania per esportare le loro arance e il mazzo dirà di voler vendere le sue azioni a Demir. Vedremo anche Sanye seguire Gaffur e lo vedrà prelevare dei soldi da un nascondiglio il che la renderà sospettosa naturalmente. Inoltre il mazzo andrà da Behzat che è il padre di Mushgan per consegnargli l'invito del matrimonio ma il padre lo rifiuterà e verrà anche in realtà minacciato da il mazzo il padre di Mushgan e la situazione sembra sempre più tesa e complicata. Nel frattempo vedremo anche Gaffur incontrare Ser che cercherà di rassicurarla promettendole di proteggere lei e il bambino ma lei ricorderà a lui del loro patto e lo minaccerà a dire a tutti che il bambino è suo se non manterrà la sua promessa. Infatti Gaffur darà dei soldi a Ser affinché lei possa sostentare lei e il bambino e soprattutto forse anche stare zitta. Come promesso le anticipazioni sono state ricche di colpi di scena e per oggi abbiamo terminato. Vi ricordo di lasciare un like se il video ti è piaciuto e di iscriverti al canale. Alla prossima puntata, ciao!